manutenzione e assistenza tecnica hai predisposizione al lavoro manuale vuoi acquisire competenze professionali ed operative spendibili direttamente nel mondo del lavoro allora l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica fa per te a conclusione del percorso quinquennale il diplomato diventa tecnico manutentore e può accedere a tutti i corsi universitari quali sono le materie professionalizzanti laboratori tecnologici ed esercitazioni tecnologie meccaniche e applicazioni tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni nel prossimo anno l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica mat propone due curvature orientate al settore meccanico e al settore elettrico elettronico cosa imparerai il settore meccanico fornisce competenze nell'ambito della metrologia delle macchine utensili tradizionali del disegno cad anche tridimensionale delle macchine a controllo numerico della pneumatica il settore elettrico elettronico si occupa di impianti elettrici civili ed industriali di macchine e strumentazioni elettriche ed elettroniche di automazione e plc di elettronica analogica e digitale e robotica educativa con arduino durante l'anno scolastico sono previste visite ad aziende a fiere di settore a grandi centri di manutenzione come la metropolitana di brescia la centrale idroelettrica di edolo la fiera dell'elettronica di montichiari e climhaus di bolzano prospettive per il futuro potrai lavorare in qualsiasi azienda che si occupa di manutenzione di installazione di collaudo come tecnico manutentore come installatore o con altre mansioni di tipo tecnico vuoi saperne di più visita il nostro sito ti aspettiamo a